Se sei appassionato di scienze, ti interessa in generale la medicina, ami gli animali, magari sei una persona che non riesce a stare a lungo senza il gatto o il cane, e non sopporti di vedere gli animali soffrire. Se hai anche solo una di queste caratteristiche, allora potresti essere la persona adatta a diventare un medico veterinario. Ciao, io sono il professor Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus, una business school che eroga master. Oggi vedremo insieme come poter diventare un veterinario, quindi dall'inizio al percorso di studi all'inserimento nel mondo del lavoro. Il veterinario è un medico specializzato nella cura degli animali, sia animali domestici da compagnia, come cani, gatti, coniglie, eccetera, ma anche animali da produzione, esempio mucche, maiali, pecore, cavalli. Il medico veterinario può operare in diversi ambiti, sia nella sanità pubblica, molto spesso presso le ASL, oppure presso cliniche e ambulatori privati come libro professionista. Oltre a queste, che sono un po' le più comuni, esistono anche tante altre opportunità di impiego, per esempio nei canili, nei parchi zoologici, nei parchi naturali e negli istituti zooprofilattici, ma anche nelle industrie farmaceutiche, per esempio come informatore scientifico veterinario, o nelle industrie alimentari, come product specialist, per le linee di prodotti destinati appunto agli animali. Inoltre ci sono varie possibilità di carriera, ovviamente nell'ambito della ricerca scientifica. Un medico veterinario può anche diventare un ispettore nell'ambito della sicurezza alimentare. A questo proposito è importante specificare che, se l'obiettivo primario del lavoro del veterinario e la cura degli animali svolge un ruolo essenziale anche per quanto riguarda ovviamente la salute dell'uomo, proprio perché moltissime malattie sono trasmissibili da animale a uomo. Quindi il controllo della salute degli animali, dei luoghi in cui vivono e dei prodotti derivati da animali, specialmente quelli destinati al consumo umano, facciamo un esempio il latte, la carne, le uova, serve proprio a garanzia della sicurezza alimentare e a tutela della salute pubblica. Parlando del medico veterinario da ambulatorio o da clinica, quello che fa nello specifico è effettuare delle visite veterinarie, che possono essere anche a domicilio ovviamente, fare prelievi, vaccinazioni, trattamenti di profilassi, sterilizzazioni, diagnostica delle patologie, prescrivere terapie farmacologiche ed esami e analisi veterinari, effettuare interventi chirurgici veterinari, quindi che potrebbero essere ortopedici, potrebbero essere oncologici eccetera, e soprattutto lavorare nella medicina d'urgenza. Offre anche consulenza sulla cura, la nutrizione e il benessere degli animali, e chiaramente si occupa della comunicazione con i proprietari, che vedremo essere la cosa più complessa. Allora, per diventare un medico veterinario è necessario ovviamente conseguire la laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, che a partire da quest'anno accademico 2023-2024 è anche abilitante all'esercizio della professione. E' anche molto importante però specificare che al momento non è attiva nessuna laurea breve in veterinaria qui in Italia. Quindi il corso di laurea è di 5 anni minimo, durante i quali si devono ottenere i 300 CFU, di cui 30 tramite un tirocinio pratico-valutativo a carattere professionalizzante. Ognuno dei 30 crediti formativi del tirocinio è pari a 25 ore di attività, e almeno 18 devono essere riservate ad attività pratiche, mentre le restanti sono di autoapprendimento, ovvero osservazione. Terminato il tirocinio, è necessario sostenere l'esame finale che comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa, che precede chiaramente la discussione della tesi di laurea. Una volta conseguita la laurea, bisogna iscriversi all'ordine dei medici veterinari della propria zona. Ora andiamo a vedere però quale sia il miglior Ateneo. Secondo il rapporto Censis del 2023, l'Ateneo di Sassari è in cima alla classifica. Seguono poi a ruota i corsi di laurea in medicina veterinaria di Milano, Bologna e Padova. Tra gli esami più difficili sembrano esserci anatomia, che a differenza della medicina umana, richiede di approfondire diverse specie, quindi che lo rende chiaramente uno studio più complesso. Poi c'è farmacologia, patologia e ispezione degli alimenti. Prova a chiedere a qualsiasi persona che ha studiato medicina veterinaria se non è così. Ma ora parliamo un pochettino del mercato del lavoro. È molto facile in realtà inserirsi. Ad un anno della laurea, in base ai dati di Alma Laurea chiaramente, il tasso di occupazione è dell'82%, con un punto percentuale in più per le donne, quindi l'82% rispetto all'81% degli uomini. Di base non ci sono abbastanza veterinari, soprattutto non ci sono abbastanza veterinari che vogliono fare il percorso della clinica. Quindi è vero che ci sono molti veterinari che vogliono fare la vita da ambulatorio, che ha un orario, fammi dire, più adatto a chi vuole fare una vita da impiegato. In realtà il lavoro della clinica si svolge su turni, quindi è molto più stressante e faticante e quindi ci sono meno persone che lo vogliono fare. Ma ora parliamo anche un pochettino di quali possono essere i guadagni di un veterinario. Allora, lo stipendio medio di un veterinario è di 38.000 euro lordi l'anno, che si traducono circa in 1950 euro nette al mese. Possiamo dire che sia leggermente superiore rispetto alla ritribuzione media italiana, quindi 400 euro in più. Quindi si parte da una retribuzione che è minimo di 10.000 euro lordi l'anno, mentre lo stipendio massimo a cui si può ambire può superare anche i 200.000 euro lordi l'anno. Ma entriamo nel vivo e nel dettaglio della professione. Cosa serve davvero per fare ed essere un veterinario? Oltre alle competenze in medicina, un bravo veterinario deve anche avere le seguenti caratteristiche, che corrispondono un po' alle nostre soft skill, che sono, come diciamo sempre, importantissime. In primis, sensibilità ed empatia, chiaramente, nei confronti degli animali. Ma neanche troppo alla fine. Ricordiamoci sempre, il medico veterinario vede la parte più brutta degli animali, i loro giorni peggiori, quindi deve essere anche pronto a si empatizzare, ma non entrare troppo in empatia, perché le cose, come sappiamo, potrebbero andare male. Quindi, per essere un buon medico, bisogna anche avere un certo distacco. La professionalità, l'igiene e l'etica. Stiamo parlando di un settore dove non abbiamo a che fare direttamente con un essere umano parlante, ma sempre di una creatura vivente. Quindi, il veterinario in malafede potrebbe approfittare del fatto che quel essere vivente non può parlare e quindi fare un po' quel che vuole. La realtà dei fatti è che un bravo veterinario è eticamente sempre molto corretto. Chiaramente ci vuole molta velocità. È un lavoro veloce, soprattutto se si lavora in medicina d'urgenza. Bisogna prendere decisioni rapide e bisogna essere anche molto accurati nell'interpretazione dei sintomi e dei comportamenti degli animali che, come abbiamo detto, purtroppo non possono parlare o forse per fortuna. Questo non lo sapremo mai. Deve avere molte capacità organizzative di collaborazione in team, molta autonomia decisionale perché stiamo parlando di medicina, quindi a volte bisogna prendere una decisione rapida e subito e bisogna essere autonomi nel saperlo fare. Importantissime le doti relazionali. Lo dico sempre. In questo caso però dobbiamo mettere un sottolineato in rosso. Perché? Perché la comunicazione con i padroni è più complessa, perché bisogna far capire cosa sta succedendo al proprio animale da compagnia parlando però con una persona che non è direttamente interessata sul suo corpo. Stiamo parlando del corpo di una creatura che è un animale, ma dobbiamo parlare con un'altra persona per le decisioni. Quindi ci si può trovare anche in brutte situazioni. Esempio, il proprietario che non capisce quanto sia importante curare e quindi lascia soffrire l'animale. Oppure il proprietario che prende decisioni sbagliate perché è sempre lui a decidere per l'animale e quindi bisogna avere una comunicazione corretta per far capire quale sia eticamente e a livello scientifico la scelta giusta. Anche perché qua di mezzo non c'è la mutua, quindi sono i proprietari che pagano e quindi si complica anche la situazione. Anche perché molte spese veterinarie sono veramente costose in quanto hanno anche applicata l'IVA qua in Italia. Una cosa assurda, però è così. Chiaramente la sempre benvenuta capacità di problem solving. Stiamo parlando, come dicevamo prima, di un lavoro molto veloce e quindi bisogna risolvere problemi in fretta e farlo bene. E chiaramente bisogna essere molto resistenti allo stress. È un lavoro veramente stressante ragazzi. Bisogna comunque sempre formarsi e aggiornarsi. Stiamo parlando di medicina, tecnologia che c'è dietro la medicina, quindi bisogna essere sempre sul pezzo. Un bravo veterinario non smetterà mai di studiare. Però adesso magari parliamo un pochettino di quelli che potrebbero essere gli ostacoli di questo mestiere. Il primo è sicuramente l'accesso alla facoltà. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria è a numero chiuso a livello nazionale e disciplinato da decreto ministeriale. Quindi il numero dei posti disponibili e le modalità di svolgimento della selezione sono resi pubblici ogni anno con relativo bando di concorso. Quindi non è facile accedere. Occorrono impegno, risorse e dedizione. Anche il periodo di studi è molto stressante. Gli esami possono essere davvero pesanti. Ci vanno mesi per preparare gli esami più grossi. Quindi ci va anche molta pazienza e molta motivazione nel non mollare. Tra parentesi anche il tirocinio non va sottovalutato. Come dicevamo prima proprio come in tutte le professioni in ambito medico-sanitario anche il medico veterinario è particolarmente emotivamente pesante. Per cui potrebbero essere necessarie anzi sicuramente saranno necessarie molte sedute di psicoterapia. Però concludendo si tratta di un mestiere veramente bello e nobile. Stiamo parlando di curare gli animali e portare un messaggio anche al mondo ovvero ci sono delle persone che si occupano della salute non solo delle persone ma anche dei nostri animali da compagnia e dei nostri animali da allevamento. Quindi se questo mestiere ti piace nonostante tutti gli ostacoli bene tirati sulle maniche perché ricordati che nulla è inarrivabile mancano solo le competenze quindi se ti piace la vita del medico veterinario allora avanti tutta e vedrai che ce la fai. Se questo video ti è piaciuto mi raccomando mettimi un like lasciami un commento se vuoi anche approfondire qualche altro tipo di mestiere e spero di vederti al prossimo video. Ciao! Ciao!